Bella raga, sono Tore, eccoci ritrovati con il secondo episodio di Sniper Ghost Warrior 2 Eravamo rimasti alla missione, cioè missione, al punto dove dovevamo andare verso il punto di guarda Una cosa del genere, non mi ricordo, comunque l'obiettivo è segui Diaz, ricominciamo, cioè ricominciamo Continuiamo questa, dove ho messo in pausa l'ultima volta Ehm, boh, siamo pronti Aspettiamo Il video, il primo episodio l'ho fatto in una... l'ho fatto durare 20 minuti Anche perché non sapevo che... quanto... quanto durasse all'inizio L'ho scoperto dopo che durava 20 minuti E in ogni caso questo secondo episodio lo sto registrando anche nello stesso giorno Ehm, del primo e... le ho spezzitati i due episodi perché... se no durava troppo e annoiava troppo Comunque, l'importante è presentarvi il gioco e ora spacchiamoci due nabi Perfetto Diaz, andiamo Questo Diaz mi piace sempre di più, è una bestia Andiamo, grande Diaz, mamma mia Che mostro Dove? Ok, bella Vai Diaz, vai Diaz, vai A terra, covalciato Chi è che devo fare fuori? Dimmi tu Diaz, dimmelo Versagli multi, quindi... come distrarli per rimuoverci Grande raga BAM Grande botto con il camioncino degli albanesi Comunque, andiamo avanti E' intelligentissimo su Diaz perché così fa modo di distrarre i nemici Ora sono tutti la... e noi facciamo il giro largo Eccolo qua Vai Diaz, vai, vai, vai Ti seguo, ti seguo Spara Ok Prendiamolo qua BAM Sul collo Attenzione Allora qui E' un bel casino Vedo che ci sono tantissimi nemici Ecco un cecchino lì Ora lo facciamo subito fuori Se non quello ci si sgama E' merda la massa, minchia Attenzione Facciamo subito fuori il cecchino Ops, mancato Porca troia Via i Diaz, via che lo vedo Cazzo Diaz però Non c'è il pallino rosso Vabbè Manca il respiro Cazzo Non l'ho beccato Eccolo là Bastardo Che cazzo è che è passato davanti Oh, che cazzo ci fai qua Nooo Dai Perfetto ragazzi Sì, la prima morte Prima morte di questo episodio Bella merda Come si suol dire Ma non fa niente Riproviamo subito Dai cazzo Non corre qua Comunque Stavolta cerchiamo di beccarlo Su tutto il cecchino di merda Andiamo a sbarazzarcene Bella lì Bam Con la kilka Ma ti stai anche in silenzio Allora usiamo il binocolo E dove che sono zio Ah, eccoli là Non vedo niente Dove cavolo sto andando? Ok, eccoli là Perfetto Le ho sotto mira Allora Uno è lì Quindi qua Bam Headshot No, non proprio headshot Però Questo è il secondo Carica, carica Il pelatone lì Bam E c'è l'headshot al pelato Ora Chi che c'è? Chi che tocca? Quello è ancora nascosto Di qua Chi che c'è? Picchiamolo Questa parte Quello è ancora nascosto No, non è nascosto Eccolo lì Dove? Dove? Dove cazzo sei? Eccolo Bam Un altro fuori Eccolo 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 Era libera Perfetto Andiamo ragazzi Vai Vai Diaz Procediamo Con Cautela No No Mi lasci qua Oh cazzo Ottimo Siamo da soli Senza Diaz Quindi Tuffiamoci sotto Che figata però Mamma mia Fatto veramente Stra bene Sto Sto gioco Ovviamente Gioco con i controcazzi Grafica Anche abbastanza Figa Quindi Merita Merita Cazzo Qua sto morendo Soffocato Sto per morire Giusto in tempo Sali 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 Perfetto Ok Perfetto Il battito 160 Mamma mia Andiamo ancora qua Facciamoci un'altra Notatina Ok Ora Dove devo andare? Devo andare sotto Perfetto Vai Così anche il nostro Personaggio Qui si rinfresca Henderson Se non sbaglio Si rinfresca Dopo questa lunga E dura estate Comunque Andiamo avanti Qua completato Ok Chi che c'è qua? Poi la zio Com'è? Si fischia Fischia È sfocato Dove 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 Mettere fuoco automaticamente Comunque Qua c'è un altro Non ti muove da lì Mamma Vai con la killcam C'è l'head shot pitch Quando parte il colpo Veramente una figata Veramente spettacolare Carichiamo E ora Andiamo giù Ah no Su Andiamo su Entriamo in chiesa Che figata Andiamo su Sì vabbè Sì domani ci arrivo Beh Andiamo Capito Tanto questo ci tocca fare Se vengono sniper Andiamo a camperare Attenzione ragazzi Qua ci insegnano a camperare Sistemiamoci Un punto Andiamo a sparare Aspettiamo Attenzione Il camion armo Mette la barretta La piazza Siamo pronti Quelli sono i miei best Ok Guardiamoci Guardiamoci Le spalle Allora Non fare fuori quello Armi fredde Aspettiamo ancora Appena ci dà l'ordine Aspettiamo Dammi l'ordine Dammi l'ordine Dai Guardate che figata Che c'è il pallino rosso Spostato leggermente a destra E Da quello che Ho capito Vuol dire che c'è anche Il vento Qui calcola anche La traiettoria del vento Con Con il proiettile E infatti Come possiamo vedere In alto Al centro C'è Il vento Che ci dice Che è 4 metri Al secondo Spinge Comunque Andiamo avanti Facciamo quest Spam Che figata Ma comunque ho fatto Veramente bene Questo gioco Vai Ecco la killcam Madonna che figata Veramente ottimo La mia cosa si sta sul balcone Eccola Tu hai visto Vai Grande Ok L'altro dove è Non ce ne sono altri Che carichiamo intanto Allora Allora Lì ci sono I miei Compagni Quindi Allora Contatto Cicchino Nella torre Perfetto Eccolo là Non ci facciamo vedere Non mi sto muovendo Tranquillo Tranquillo Sono un camper Non me lo farei bene Perfetto Questo qui trema tutto Ok Ora facciamo fuori questo Sniper Qua Oh Lo manca tutti pochissimo Bam Ho preso Vai così Allora Gli altri dove sono Eccoli qua Minchia quante ne sono Tre Ok Perfetto Facciamo questo qua Adesso Vieni qua Vieni qua Non ti vedo Vieni fuori Vieni fuori Eccolo qua Mamma Ok Perfetto Via libera Vai Dai ragazzi Dai Dai ragazzi Facciamo fuori Facciamo fuori Facciamo fuori Anche l'altro Vai con Led shot E con la Kill cam Ancora una volta Che figata Ragazzi Che figata Ok Qui E dovrebbe esserci un altro Infatti Ecco lì Ci pensa Il mio amico Mi sa Questo No Sì Infatti Ecco lì Io Ammazzo Questo Ho mancato Di bestia Stavolta No E ancora io Attenzione No È morto Bastato Fare finte Ok Quella L'ammazza Guardate Che figata Sto gioco È spettacolare Comunque Tre mezzi Perfetto Quindi Armi fredde Aspettiamo L'ordine Del capo Ok Doppia kill Tripla kill Mamma mia Con un colpo Ne sta per fare fuori tre Ma vabbè Ho fatto fuori solamente due E quello che cazzo ci fa qua Ah ok BAM Beccato Di tolare la testa Sul collo Becchiamo pure questo A posto Aria pulita Che cazzo ci fai qua Vai Grazie amico Ti devo una birra Solamente E devi 4-5 Zio Come minimo Spara anche lui Allora Ripuliamo l'area Eccoli là Ma questi sono i miei compagni Non ci sono i miei compagni Sì 2-5 Perfetto Molto Sì 5-5 1-6 1-6 6-5 Ma dai esci 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 bravo ok li ho pulito poi a posto finito così perfetto mi sa che abbiamo tutta la missione infatti mettevo raggiunto stanno cercando il virus dai ragazzi dai ragazzi qualcuno dovrà sostare di nuovo le pareti scrostare vedremo in formato anderson proseguo il video è solo la transizione 3 milioni di disperso ci riuscirà con la barca perfetto missione compiuta e mi sa che finisce qua forse il demo vediamo 31 sì infatti bom ragazzi il video finisce qui e finisce con questo finisce anche la demo questo gioco veramente mi ha sconvolto veramente spettacolare non me lo aspettavo così cioè da quello che ho visto era spettacolare anche lì però provarlo è ancora meglio il voto che secondo me metta da 1 a 10 è 8 8 e mezzo è un voto perfetto che ci sta a pennello come su questo gioco e niente come dicevo nel primo episodio spero che di averlo nel gioco completo per continuare la serie se non l'avrò fa niente o avrò sicuramente altri giochi da provare da farvi vedere e niente per oggi è tutto noi ci sentiamo nel prossimo video che non so di cosa sarà però ci sentiamo nel prossimo video bella raga